Ci abbiamo provato in tutti i modi, non solo mettendo Gora ma cercando di far girare questa squadra. Io sono rammaricato solo a livello tecnico, tattico, che abbiamo avuto molte possibilità su questi cross e non siamo mai stati capaci di attaccare il primo pallo. Questa è una cosa che quando sei in superiorità numerica devi per forza di cose riempire meglio l'area di rigore e spesso invece quasi tutti i giocatori aspettavano il secondo pallo. Questo è l'unico appello che posso fare alla squadra, poi fino alla fine ha lottato, ha cercato in tutti i modi di vincere questa partita. Siamo dispiaciuti ma dobbiamo anche pensare che tutte le partite sono veramente molto difficili. Anche noi abbiamo, con la sparse, non ricordo male, abbiamo fatto 80 minuti in dieci e non ci hanno fatto gol. Quindi tante volte basta una deviazione che ti può sbloccare la partita. Questa sera non è stata così e quindi prendiamo atto di tutto, cercheremo di migliorare. Partita dopo partita dobbiamo per forza di cose capire come e dove attaccare l'area di rigore.